Siamo partiti? Siamo in diretta? Non lo so, chi mi dice di sì? Sì, bene, bene, siamo puntualissimi, siamo 18.01. Benvenuto Stefano, benvenuto e sono veramente felice e anche molto emozionata nell'averti qui mio ospite in questa pagina di Officina Paros. È veramente un onore presentare Stefano, un mio amico da diversi anni. Tanto mi presento io, sono Roberta Apos, ho un salone per chi non mi conosce di bellezza da più di 30 anni e da qualche anno mi occupo di formazione, di formazione per parrucchieri, diciamo prevalentemente. Ho creato questo network che si chiama Officina Par, dove condividiamo con i colleghi, insomma, un bel po' di esperienze e devo dire anche grazie a Stefano, perché Stefano è stato il padre ispiratore di questo mio progetto e quindi non posso che ringraziarti per quello che in questi anni, insomma, mi hai donato. Veramente grazie. Ci conosciamo da quasi 10 anni, il tempo passa velocemente, sono passati quasi 10 anni. Ci siamo conosciuti in occasione di Accademia del Rinascimento Mediterraneo. Tu avevi scritto da poco il tuo libro Comunicare Mediterraneo e io sono stata veramente felice di entrare in questa tua famiglia bellissima, di imprenditori, di idee, di progetti e poi abbiamo continuato con Comunicazione Evolutiva, con la tua scuola che tuttora continui, anzi, sempre di più e io continuo a seguirti perché è veramente un grande dono, insomma, quello che ci fai. E oggi sono qui per fare questo dono a tutti i miei colleghi, a tutte le mie clienti, a chi vorrà ascoltarci, perché credo che sia un momento molto importante ed è urgente condividere alcuni temi. Tu hai scritto un ultimo libro bellissimo, che io trovo veramente di una forza e di una potenza veramente esplosiva e questo momento, insomma, lo voglio condividere. Ti lascerò la parola e ti lascerò presentare da solo perché io non saprei da dove iniziare, perché mi è proprio difficile descriverti conoscendoti e vedendo in questi anni tutti i vari passaggi evolutivi e cambiamenti lavorativi, insomma, che hai fatto. Veramente avrei difficoltà nel descriverti. Però voglio raccontare veramente in brevemente perché siamo qui. E forse posso iniziare già da una frase di un capitolo, del secondo capitolo del suo libro, che è questa. Viviamo quindi in un mondo totalmente interconnesso, in cui niente è isolato, ma tutto è interdipendente. Allora, questa è una parola che in questi ultimi tempi la sento molto, questa interdipendenza, perché uno può anche dire che ci fa una parrucchiera a presentare Stefano, un libro, potrebbe anche non coglierne il senso, no? Ma credo che siamo tutti collegati, tutte le discipline, tutti i lavori, tutti, tutto. E quindi partirei da qui. Adesso lascio la parola a te, Stefano, in modo che insomma inizi a raccontarci il tuo splendido lavoro e chi sei il tuo essere. Grazie. Grazie a te, grazie per l'invito. Anche a me fa davvero tanto piacere, dopo tanto cammino insieme, no? Tante iniziative insieme, adesso trovarci a tu per tu, però con qualcuno che ci osserva, che ci ascolta, no? E diventa un dono che esce da qualcosa di autentico che abbiamo creato dentro di noi, ma che va a chi non lo sappiamo, perché non sappiamo chi ci sta ascoltando. Quindi è bello questo stare insieme. Tra l'altro nelle tue brevi parole, ma anche molto, diciamo, sono molto grato per questa gratitudine che hai condiviso con me. E' tracciato due periodi, effettivamente ci siamo conosciuti a cavallo di uno di miei tanti cambiamenti, no? Sì, non è facile descrivere, perché io effettivamente non mi autodefinisco e non cerco di autodefinirmi. E quindi è naturale che nel corso della vita poi genero tanti me, tutti connessi, tutti collegati, ma non c'è un me superiore agli altri, identificabile in un ruolo, in un mestiere, in una competenza, in un pensiero. E questo non è uno sfuggire, ma è un costruire, un costruire, diciamo, una consapevolezza di sé, ed esercitarla nei vari campi, secondo la propria crescita. Se, come me, poi le scelte, da quelle imprenditoriali, professionali, affettive, relazionali, dipendono da un bisogno di accordare tutto ciò che accade fuori, quindi nella nostra realtà, nel nostro vissuto, con ciò che si sente dentro, tutti quanti abbiamo questo bisogno. Però c'è chi, come me, soffre particolarmente se non sta nel proprio centro, e allora diventa molto semplice naturalizzare questo cambiamento, perché è un cambiamento animico, è anima che ti spinge a entrare e uscire dagli ambienti, lasciando però comunque le tracce di qualcosa di te che diventa sempre più chiaro, no? Quindi questa paradossale polverizzazione dell'identità in realtà si crea, inizia a stagliarsi una tua identità animica e che venga percepita da una persona o meno, questo è il relativo, l'importante è percepirlo noi. Fu un passaggio, quello in cui ci incontrammo, che appunto lasciavo tutte le mie imprese, le mie attività, le mie maschere imprenditoriali, professionali, le mie cariche istituzionali, avevo la mia, diciamo, dote di successo, di reputazione e anche in qualche modo di esperienza, lasciai tutto per, dopo aver scritto questo manifesto col quale ci incontrammo, questo libro, Comunicare Mediterraneo, che in sostanza a letto oggi si capirebbe ancora meglio, perché era un invito ad arrivare ad oggi pronti, perché sarebbe successo quello che sta succedendo ed invitavo a una vita mediterranea, un rinascimento dell'economia basata su un modo di intendere l'esistenza molto più, diciamo, vicino a quelle che sono l'identità mediterranea del sud che quelle dell'occidente o del nord spinto, che invece ci sta spingendo appunto verso una direzione che non sarà funzionale, diciamo, al nostro sviluppo, alla nostra evoluzione, al nostro benessere. Oggi, invece, in questo buco di dieci anni tra un libro e l'altro, dove sono usciti altri libri, diciamo, ma questi due sono effettivamente due colonne importanti di questo passaggio, ad esempio, dico come si fa in questo libro, che è un libro alchemico, racconto come costruire una propria economia alchemica, cioè come creare una propria autonoma creazione nella quale calarsi, una creazione che deve poter essere vissuta e sentita nel quotidiano e deve poter essere vissuta anche in prospettiva, nel futuro. Noi invece ci sentiamo depredati da, diciamo, libertà che limitano la nostra azione quotidiana e ci sentiamo depredati della libertà di immaginare futuro per quello che sta accadendo, per quello che stanno propinando, per quello che si sta costruendo, appunto, il gioco politico, no? Quindi stanno sottraendo a noi una forza importantissima, quella che rende, come posso dire, che dà un inizio al processo che ci rende più forti, quindi più capaci di esprimere noi stessi, che è la volontà. Sì, se mi consenti, Stefano, proprio su questo punto, intanto vorrei salutare gli amici che stanno iniziando a scrivere e a comunque far sapere che qualsiasi domanda è ben accetta e quindi siamo pronti a dare qualche suggerimento. È proprio quello che dici in questo momento, cioè il momento è proprio forte, ecco perché io sentivo proprio la necessità e il bisogno di condividere questo tuo trattato, chiamiamolo così, proprio perché veramente, come dici tu, spiego come si fa a creare una propria autonomia. Sento in questo momento che tante persone stanno perdendo il centro perché ci stanno togliendo la terra dai sottopiedi e quindi è importante comunicare questi messaggi. A proposito anche di prima del tuo essere, il divenire, il divenire di tutti noi, insomma, perché siamo in un continuo divenire, io ho sentito sempre molto forte questa possibilità di uscire dal ruolo e non essere solo un ruolo, ma essere ancora qualcosa di più del ruolo, come tu con la tua vita ci stai dimostrando e tante altre persone magari pian piano si liberano da queste, come dicevi tu, maschere, false personalità o eccetera. e quindi un'altra cosa che ti volevo chiedere, magari ti ho interrotto, scusami, ma questo è il mio modo di... Siamo in conversazione. Ecco, ti volevo chiedere, perché io la sento molto, un'altra parola che sento moltissimo e che trovo nel tuo libro, nel quarto capitolo, dove tu dici che la parola chiave è responsabilità. Ma partirei anche da questa parola chiave, perché credo che lì si gioca veramente tanto. Grazie, grazie di questo grande assist. Responsabilità, allora diamo alla parola responsabilità un significato che possa essere, parlando del linguaggio esoterico, alchemico, di un'ottava superiore e non di un'ottava inferiore, perché l'ottava inferiore del significato che noi attribuiamo alla parola responsabilità è di colpa, di un errore, di causa, causa-colpa. Quindi prendersi la responsabilità e assumersi, diciamo, la colpa o l'essere stato causa di un qualcosa. Questa è l'ottava bassa, è quello che troviamo nel polo nero, il polo negativo. Responsabilità, come reale frequenza che contiene come significato, vuol dire dare una risposta abile. Cioè sapere che in funzione di qualunque evento, qualunque situazione, se tu ci stai nel mezzo, non che tu sia causa, comunque ci stai nel mezzo, hai la responsabilità di fare il meglio che puoi in quella situazione. Quindi dare una risposta abile. Dare una risposta abile a un incidente, dare un risposta abile a un cambiamento, dare un risposta abile a qualunque cosa che possa provenire anche al 100%, non sarà mai così, esclusivamente dall'esterno, quindi non è causa tua, diciamo così. Anche lì ci sarebbe comunque il nostro zampino, ma facciamo finta che essere responsabile però di un processo così grande, che sta coinvolgendo tutti, è una giostra ancora più alta, perché si tratta di prendersi la responsabilità, cioè di dare la risposta più abile a questi cambiamenti, sfruttando proprio l'apparente schiacciamento delle nostre identità. Ma se noi superiamo la soglia della paura, che è l'unica che ci offusca la mente e il cuore, se stiamo, abitiamo, impariamo ad abitare sopra la soglia della paura, che è l'unica arma con la quale possono abbassare questa nostra capacità di essere responsabili, scopriamo effettivamente che noi possiamo avere uno sguardo diverso a quello che sta accadendo. E scoprire che forse ci stanno anche facendo un favore nel crearci questo disordine, questa confusione, questo dolore, questa sofferenza, perché abbiamo forse bisogno di attraversare questo periodo. E quindi io mi prendo la responsabilità di stare in questo periodo con la migliore attitudine che posso, perché qua oggi siamo chiamati come corpo collettivo, come individui, a essere adulti, di smettere di essere dei bambini, degli adolescenti, ma dobbiamo imparare a essere, addirittura di superare la genitorialità e a essere individui adulti, capaci di comprendere, come spingo sempre io in questo periodo le persone, che oggi più che mai non c'è nulla da perdere per quello che è il progetto di vita che fino a me abbiamo sempre immaginato fatto di obiettivi materiali, del tutto legittimi, il danaro, lo stipendio, la casa, il lavoro, la clientela, questo immaginario che viene rotto, il proprio lavoro, le proprie routine, i propri progetti, dove vivrò, come vivrò, adesso si sta smuovendo tutto. Bene, questo ci dà la possibilità di rimettere in gioco tutto, di disaffezionarci a quelle false illusioni di inseguire, cioè se non è chiaro oggi che tutto ciò che tu progetti su quel piano lì te lo possono spazzare via un momento all'altro, e che come diceva Gesù, non costruite qui i tesori, ma costruite lì in cielo, oggi è il momento di comprendere che questa non è una guerra materiale, tecnologica e basta, economica, ma è un riequilibrio sul piano energetico, quindi sul piano spirituale. E bisogna comprendere che in quest'epoca noi dobbiamo avere innanzitutto la responsabilità di rispondere appunto con la massima attenzione, con la massima capacità, quelli che sono i segnali della nostra natura divina, perché c'è un grande switch, c'è una specie azione in atto, una specie azione, c'è un cambiamento del genere della specie umana, cambierà, si dividerà con tante sfumature, ma in una, seppur dopo una grande depopolazione, con una parte maggioritaria di zombie, che saranno dei veri e propri ominidi, però robotizzati, diciamo in qualche modo avranno accettato dentro di sé la tecnologia, sia dal punto di vista software che dal punto di vista hardware, saranno comunque in un ambiente cyber, perché siamo già dentro un ambiente cyber, poi con le 5G e tante altre tecnologie di connessione, siamo già in un ambiente cyber, e saranno pilotate in remoto, mentre ce ne saranno altre, che avranno saputo mantenere il contatto con la propria parte divina, dove queste progettualità, questa immagine dell'economia, vista in quel modo lì, è un mondo già morto, già vecchio. In effetti è proprio per questo che oggi parliamo del tuo libro Economia Alchemica, perché forse è già da tempo arrivato il momento di pensare a una nuova forma di economia, che non è quella che abbiamo capito, insomma, che è quella che abbiamo vissuto fino ad oggi, ormai è deflagrata, insomma non ce la fa più, non può andare avanti, quindi forse ognuno di noi, se si assume la propria responsabilità, di poter lavorare su di sé e cercare di, come dici tu, far uscire anche la nostra anima, e quindi qui io introdurrei un'altra parola molto cara, ma anche per coincidenza, diciamo, che abbiamo utilizzato assieme, tu parli della realtà visibile, invisibile, che crea quella visibile, e non a caso il nostro percorso di quest'anno si chiama proprio invisibili percorsi, con la parte, insomma, che si declina sia in un modo che nell'altro. Sono convinta che ognuno di noi può veramente fare forza e fare leva alle cose, ai percorsi che non si vedono, ma che poi generano la realtà, cioè quindi quando tu parli di creare la nostra realtà, ma per forza dobbiamo non avere paura, perché se abbiamo paura, e se abbiamo, proprio oggi ho fatto un post su Facebook dove parlavo di andare oltre, andare oltre tutto quello che la mente ci dice e stare nel cuore, sentire quello, una volta i vecchi detti erano proprio in dialetto salentino, pensa come ti dice il cuore, come ti dice il cuore proprio, fai quello che il cuore ti ispira. Cosa che abbiamo probabilmente negli ultimi anni avvettito e dato molto più retta invece magari alla mente, al giudizio, e non ascoltare la propria unicità. E credo che questo abbia contribuito a fermare un'economia distorta, se vogliamo. Non lo so, oggi credo che l'economia ha bisogno di altro e io dico sempre dobbiamo andare oltre. Sì, non so se l'economia ha bisogno, abbiamo bisogno noi di creare una nuova economia, di ritornare al vero senso della parola economia, perché dentro la parola economia c'è già dentro tutto. Il primo, la prima rottura più evidente della proposta, del paradigma di economia alchemica rispetto alle economie altre che abbiamo vissuto e conosciuto fino adesso è l'inversione, perché l'inversione tra l'altro è un processo costante, energeticamente importantissimo, nel passaggio tra la realtà invisibile e quella visibile. L'inversione in che senso? In modo molto semplice. Noi diamo per scontato che il modello dell'economia deve venire dall'alto, dal nostro capovillaggio, dal sindaco, dal governatore e adesso dall'elite mondiale che decide dove il mondo deve andare. Quindi speriamo che arrivi un modello di economia che possa favorire i miei talenti, i miei progetti, perché io inizio a investire, poi arriva un altro modello, butta via a terra tutto e si ricomincia a riprogettare, perché sto guardando delle strade che mi devono arrivare dall'alto o dall'esterno verso di me e se io le posso prendere, perché sto guardando fuori. Ma l'economia nasce dall'individuo, è un processo proprio inverso, nasce intorno a te. Tutto ciò che tu non percepisci come economia, cioè come un qualcosa che ti fa stare in armonia con te stesso, con il tuo ambiente esterno, con quello che fai, con quello che dici, con le persone con cui ti incontri, con il guadagno che riesci a trarre dal tuo lavoro e tutto il resto, tutte queste eventuali conflittualità o armonie dipendono da te, dipendono da noi e quindi noi abbiamo il potere di creare, proprio come si butta un sassolino nell'acqua, i cerchi contro, diciamo dell'economia che si crea, sono questi cerchi che si propagano intorno a noi. Quindi da qui parte il primo presupposto, guarda che stai su una strada completamente sbagliata, pensiamo che per essere ricchi dentro e ricchi fuori dobbiamo stare dentro a delle piste del mainstream, dell'economia mondiale o locale che ormai abbiamo visto che è fatta ad hoc per prendere energie, danaro, risorse dalla terra, dalle persone, da tutto e non lascia niente. Ci dobbiamo ancora sbattere su questa cosa? O non abbiamo capito che chi ci governa, quindi è una follia pensare che chi ci governa sta per prepararci qualcosa di buono. No, probabilmente sarà preparando qualcosa di buono per il 10% o l'1% della popolazione e il divario aumenterà. se non capiamo questo quindi dovremmo capire che devo iniziare a pensare che tipo di economia posso fare perché sia sempre più indipendente dal sistema, non sempre più forte nel sistema. Da questo presupposto nasce un processo alchemico perché attraverso la riorganizzazione della propria interiorità, quindi la propria accezione al proprio essere, alle proprie risorse, ai propri talenti, tutto ciò che riesco a organizzare qui economicamente ed ecologicamente lo troverò specchiato fuori e non è una favoletta. Io porto testimonianza vivente, sono io, io campo così, sono felice di campare così, di non aver fin dal primo minuto voler mettere da parte niente per una pensione futura perché voglio mantenere alta la mia disponibilità al cambiamento, all'adeguamento ed è qualcosa che parte da processi molto semplici, pratici che garantiscono intanto il vero risultato che ci interessa, cioè sentirci ricchi, sentirci bene, perché non è importante che la ricchezza sia fuori e poi dentro, quindi questo è il cuore dell'economia e dell'ecologia interiore. Quando questo avviene vuol dire che tu stai facendo qualcosa che secondo un tuo valore animico, secondo quindi un tuo talento animico e allora tu fallo fluire al di là se ti farà diventare famoso, se sarà il lavoro, il talento del tuo futuro e tutte queste cazzate che ci hanno messo nella testa, il talento è un canale che serve per far esprimere la propria anima e prima poteva durare per tre generazioni e adesso può durare per una serata e poi ti trovi che una serata riesci a suonare uno strumento e ha canalizzato la tua anima e poi dici ma come ho fatto e non riuscirai più magari a suonarlo più. è un talento che si è espresso in un fare un attimo per darti una frequenza, una vibrazione e farti comprendere cosa c'hai dentro. Dobbiamo entrare in questo meccanismo e vedere che la ricchezza fluisce da noi. Se io mi identifico in un fare sto chiudendo, cioè oggi siamo di fronte alla possibilità di aprirci completamente, aprirci completamente essendo ciò che siamo. Questo è il principio su cui parte l'economia che poi è strutturata è un trattato, è un paradigma quindi c'è tutta una struttura che non avremo il tempo ovviamente di condividere ma poi lo lasciamo alla lettura. Tu parli infatti di mentalità, di ricchezza e parli anche del fatto come dicevi prima di sentirsi ricchi al di là della realtà. È un discorso proprio di sensazione di sentirsi ricchi anche di fronte appunto alla bellezza della natura di sentirsi interconnessi appunto attraverso le piccole cose e poi parli e questa cosa mi piace molto della differenza che ci può essere tra il talento del fare e il talento dell'essere e che come sempre insomma ascoltiamo spesso ascoltiamo nei tuoi incontri e sono le parole che hanno cambiato il significato alle cose e ci siamo caduti diciamo in questa trappola del significato quindi questa differenza del talento del fare e del talento dell'essere credo che sia sostanziale e se ce ne vuoi parlare un po' per comprenderla ancora meglio sì sì volentieri e quindi diciamo prima ho fatto buona premessa allora perché l'errore nel quale siamo stati indotti è pensare che noi ci realizzeremo quando finalmente approderemo a una capacità di saper fare qualcosa magari di artistico perché è più talento come se curare le persone non è un talento o saper parlare non fosse un talento e abbiamo delle immagini un po' distorte del talento crediamo che il talento sia quella cosa che noi possiamo prendere finalmente afferrare con le nostre mani nella quale identificarci e che diventa strumento di successo sostanzialmente quindi vuol dire di autorealizzazione tanto per cominciare quindi soddisfazione di sé autostima autoefficacia realizzazione economica e quindi magari anche guadagno magari anche ricchi cioè che ci fa diventare ricchi il talento e magari anche la fama cioè che gli altri ce lo dicono che che il riconoscimento hai quel talento esatto abbiamo quest'idea per cui nel momento in cui come appositamente il modello economico che ci viene calato all'alto ti vuole in qualche modo frustrare ma proprio ormai frustare il talento vedi che ci sono delle comunicazioni in UK che mi ha fatto vedere Tiziana Alterio in una recente intervista dove fanno vedere già in Inghilterra quindi circola questa propaganda dove c'è per esempio l'immagine di una ragazza che sta mettendo nello spogliatoio di uno studio di danza le sue scarpette e la scritta che dice Sofia non sa che il suo lavoro sarà nel cyber cioè dove stai andando tu che vuoi danzare tu sarai assoldata dalla tecnologia quindi da sopra il modello economico vuole uccidere i tuoi talenti perché attraverso i tuoi talenti la nostra scintilla divina animica si accende e crea alte frequenze e noi scopriamo chi siamo quindi è un problema serio in qualche modo lasciare vivere i talenti del fare allora in un'epoca del genere così capiamo talento dell'essere in un'epoca del genere ancora di più fissarsi su un'idea sbagliata del talento del fare vuol dire soffrire in continuazione perché non riusciamo a proiettare nessuna idea che ci renderà soddisfatti ricchi stabili perché non ci stanno tagliando tutte le strade ma infatti è una bufala è una fake news perché tu il talento del fare lo devi lasciare fluire al di là delle idee che c'è nella mente o delle cose che ti dicono che ti farà mangiare o ti darà successo meno perché non è quello lo scopo è di far fluire un altro tipo di energia che il talento dell'essere ciò che sei è da quello che inizia a nascere nascere intanto una ricchezza interiore per cui se anche mangi di meno o hai qualche vestito meno carino te ne fotti altamente perché tu stai bene sei ricco dentro non hai bisogno di avere specchi esterni per sentirti ricco dentro quindi già hai guadagnato ma poi arriva la ricchezza materiale anzi contestualmente attraverso pratiche del dono molto importanti pure fanno parte di questo processo perché se io faccio qualcosa di buono con le mie mani non desidero di venderlo io desidero che un altro lo possa sperimentare ci possa giocare lo possa usare lo possa godere quindi come diventare rinchi vendendo queste sono idee sbagliate per cui noi non tiriamo fuori il nostro talento perché fuori non ce lo pagano ma regalalo fallo fluire non abbiamo capito l'economia che si crea l'economia che è ricchezza creata dalle risorse funziona se le risorse si sentono libere di essere ciò che sono se tu lasci un pezzo di terra e che si organizzi la natura ciascuno secondo il proprio talento farà ciò che deve fare in propria naturalezza invece noi abbiamo purtroppo in questo presidio qui installato un sistema molto fragile alla paura e caschiamo a qualsiasi sistema diciamo che poi l'omologazione imperante in questi ultimi diciamo decenni il fatto di omologarci di volerci a tutti i costi uguali e non unici e differenti come insomma come lo siamo poi in realtà siamo tutti unici ognuno con le proprie potenzialità ed espressività e poi credo che questo che tu dicevi ci aggancia a un altro fattore importante che il qui e ora cioè solitamente per pensare al futuro o al passato ci dimentichiamo di vivere questo unico momento che abbiamo e di godere questo momento che abbiamo bello o brutto che sia no? che insomma come dici tu anche i momenti meno belli poi sono quelli che ci fanno fare un altro passettino o un altro salto e quindi comunque trovare la bellezza anche nell'impermanenza e nella bruttezza diciamo così o nel momento insomma buio beh qui ci sono un po' di cose importanti perché parli del momento presente poi mi parli di buio allora sul momento presente assolutamente sì esiste solo quello esiste solo questo istante poi quest'altro istante quest'altro istante esiste solo questo esiste solo il presente eppure noi noi psichicamente quindi con la nostra mente abitiamo sempre o nel passato o nel futuro il nostro corpo invece ineluttabilmente abita solo ed esclusivamente il presente ma viene strattonato attraverso la mente che va tra il passato ricordi desideri rimorsi paure traumi eccetera e il futuro ansie idee eccitazioni progetti eccetera sta sempre a portarsi il corpo emotivo quindi le emozioni da una parte e l'altra che entrambe non fanno parte del momento presente e quindi che cosa succede se io immagino di dover entrare nell'istante è come voler concentrare tutta l'attenzione in un punto in un istante e tagliare tutto il futuro e tagliare tutto il passato quindi lasciare tutto fuori e prendersi solo un puntino questo pensa la mente e non sa che quando va in quel puntino ciò che trova è questo è un altro mondo è un'altra dimensione è uno spazio senza tempo un luogo senza spazio senza tempo lo spazio magari lo possiamo percepire ma a un certo punto possiamo anche staccarci dalla percezione spaziale e nel presente abita una frequenza della nostra coscienza completamente diversa da quella automatica predata e predatoria che è abitata dalla mente inferiore che è quella che produce queste proiezioni nel futuro e queste regressioni perché sono regressioni nel passato quindi riappropriarci della presenza vuol dire riappropriarci della nostra coscienza ed iniziare a presidiare i momenti della nostra vita istante dopo istante non tutto il tempo perché non lo possiamo fare ma nelle fasi importanti della nostra vita essere consapevoli di essere anche un'altra parte cioè di non essere solo una parte psichica ma di essere una parte animica che abita in un altro luogo e deve nascere una relazione Roberta forse questa è la cosa che più dobbiamo dire così parliamo anche di buio e di lato oscuro noi siamo costituiti da due nature e questo tu lo sai benissimo tutti i miei seminari qualunque argomento la prima cosa che devo ricordare ricordati che dentro di te abbiano due nature differenti una è animica ed è quella che dà la vita il corpo causale cioè senza quello non ci sarebbe niente il sé superiore l'atman la coscienza chiamiamola come vogliamo la scintilla divina che anima un corpo che viene costruito tra l'altro progettato da questa scintilla divina abita un corpo che è una somma di corpo fisico corpo mentale corpo emotivo questa attrezzatura macchina biologica corpo mente struttura psicofisica o personalità perché la parola personalità indica proprio questo corpo mente è lo strumento per poter noi come perché questi siamo noi questi è un pezzo di noi temporaneo in questa fase in questa dimensione ma la nostra vera essenza è in anima che viene qui a dar vita a questa macchina ora anima ha un processo evolutivo intanto vuole portare messaggi messaggi d'amore costruttivi deve illuminare sa che può creare con la sua luminosità le sue frequenze ma vuole anche imparare conoscere con i propri occhi attraverso i propri occhi guardare la stessa cosa mille anime rapportano ad anima mundi mille storie diverse quindi vogliono anche raccogliere raccogliere tutte le esperienze emotive della coscienza che fa quindi è la anima è un'energia vitale curiosa che vuole sempre il cambiamento sempre la novità ma abita una personalità che invece ha paura perché ha come funzione quella della sopravvivenza quindi la mente inferiore le emozioni superiori e il corpo sono una base che serve per far sopravvivere anima il corpo ma poi può rivolgere e ha altre funzioni più evolutive ma se non lo sappiamo stiamo sempre in funzione di sopravvivenza quindi la personalità che ha imparato quattro cose quelle quattro cose vuole tenere il cambiamento gli fa paura gli fa paura e quindi c'è sempre un attrito tra una parte animica che vuole crescere imparare espandersi e una parte la personalità vuole fermarsi ancorarsi e tra queste due c'è conflitto e devono imparare a guardarsi fino a che una non comincia a fidarsi dell'altra cominciare dalla nostra coscienza deve imparare a osservare la macchina biologica le sue necessità le sue paure e non fare finta che non ce li ha ma integrarle abbracciarle comprenderle perché poi fa questa cosa tutto in automatico non è per cattiveria poi abbiamo tanti meccanismi anche parassitari energetici che creano tanti scoinvolgimenti bisogna avere la coscienza anima guarda questa nostra parte inferiore comunque con amore se noi la guidiamo inizia a nascere una relazione tra due soggetti che ne compongono uno ma sono due soggetti nella nostra interiorità e quindi anche la capacità di comprendere e andiamo all'autoscuro così ti do una chiusura sul lato oscuro se di qua se no passiamo ad un altro tema vai vai però anche attraverso questa dualità che abbiamo appena creato concettualmente ma che energeticamente davvero sussista in noi la stessa cosa possiamo immaginare con il lato oscuro e il lato luminoso che insiste in noi dove nel lato oscuro si vanno ad annidare tutte quelle paure che hanno bisogno di essere guardate scoperte fatte maturare perché sono delle parti molto antiche che non abbiamo saputo curare sulle quali fanno leva tutti i nostri nemici tutti coloro che sanno come manipolare lo sa anche un genitore come si fa a manipolare un bambino con la paura si alterano tutti i meccanismi della macchina biologica che entra in sopravvivenza e non vuole fare niente quindi tra anima in questo momento che vorrebbe vivere più di che può perché adesso sa ancora di più perché sta aumentando questa coscienza questa consapevolezza che potrebbe condividerla con altri e adesso invece ci levano il presente e il futuro la macchina è spaventatissima dice ma dove vuoi andare e quella proprio in questo momento richiede un atto di coraggio c'è un dialogo che non ascoltiamo però quello che voglio dire io per tranquillizzare le persone è che questo è un fatto normale non sei tu che ha una patologia quella dell'insoddisfazione costante o della paura costante di non essere ciò che sei ma è un fattore evolutivo cioè anche se tu accontenti anima a un certo punto anima però vuole scoprire di più la personalità deve imparare a non essere di peso e a seguire anima perché ti porterà sempre più in una condizione di massima espansione della propria della tua del tuo benessere della tua consapevolezza su un piano che non è necessariamente soltanto materiale ma intanto è spirituale diciamo è animico e poi si ribalta anche sul corpo sulle relazioni su tutto ciò che viviamo quindi insomma diciamo che il nostro compito è quello di armonizzare queste dualità fare pace trovare questo famoso centro di gravità che insomma tutti quanti noi auspichiamo perché forse è proprio il centro che ci può dare la direzione più giusta e quello che vedo che sento in questo momento maggiormente è che avendo queste forze contrapposte poi spesso viene fuori l'aggressività soprattutto ripeto in questo periodo no perché diciamo spesso ci si non si ascolta come dicevi tu magari anima parla piano non ci fa non ci dà le grandi non busta forte forte però noi non ascoltiamo il nostro il nostro sentire quindi diventiamo aggressivi questa è una mia diciamo no no questo è questo è questo è proprio un movimento energetico automatico bravissima che lo ricordi c'è questa frustrazione latente questa paura costante e da una parte c'è la paura di morire la paura di non riuscire a farcela di queste tante paure diciamo esistenziali dall'altra per anima c'è il desiderio di essere di manifestarsi no quindi c'è un'insoddisfazione che crea una frustrazione che produce rabbia e aggressività il punto è che l'aggressività è una droga è una droga che ci brucia e consuma da dentro e più la sfoghiamo fuori più la mettiamo nell'etere e ci torna anche quindi che cosa farne di questa rabbia e spesso come tu dici nel tuo libro spesso anche i lavori che facciamo magari sono lavori che non amiamo e quindi anche qui di nuovo si innesca questo meccanismo di non ascolto dei propri talenti e delle proprie espressività e quindi anche nel lavoro possiamo generare le stesse e quindi il lavoro genera l'economia insomma è tutto sempre ecco ritorniamo alla parola interdipendente è tutt'uno alla fine se noi facciamo un lavoro che non amiamo due sono le cose o abbiamo scelto di ucciderci oppure dobbiamo al più presto imparare ad amarlo poi vediamo se va cambiato però la prima cosa è imparare ad amare ciò che stai facendo qualunque cosa a meno che non è uccidere rubare è male anche di pulire il water al tuo nemico ok se tu in questa pratica sai immettere amore invece che frustrazione stai creando la tua ricchezza interiore nessuno ti potrà impoverire mai sei sei indistruttibile sei invincibile perché se provi gratitudine rispetto a un lavoro così umile ma lo fai con amore quindi con un intento e non mentre stai pulendo il water che gli mandi le iatture oppure dici ma quando io che ho la laurea quando mi toccherà ma che mondo no ma se si riesce a comprendere che cosa ci può essere di magico in quell'atto fatto con amore e con gratitudine quello che ti torna è di un valore è un capitale nell'economia alchemica è un capitale di ricchezza di gratitudine interiore col quale incominciare a seminare un terreno di un'economia completamente diversa da quella che immaginiamo io so che sembra difficile trasporre dall'invisibile poi l'impatto nel visibile di questa economia perché tutti quanti immaginiamo gli euro i soldi il conto in banca o qualcosa di citabile di fisico ma anche il risultato subito cioè siamo portati mentre facciamo una cosa a pensare già al risultato ma qual è il risultato? questo è il bello il risultato è avere i soldi in banca o avere io ho i soldi in banca sono felice adesso perché mi sento ricco ok? ho i soldi in banca però già mi è passata questa cosa ne voglio altri e non sono ricco io i soldi in banca non ce li ho e mi sento ricco dimmi chi è più libero dimmi chi è più ricco e chi è più indipendente da lì si parte da questo processo gli va invertito totalmente ciò cos'è che ti fa star bene? questo questo ti impiede e devi farlo devi scoprirlo ci vuole una certa attitudine nello scoprire il libro ti prende per mano e ti fa evitare anche i pericoli degli ego perché quando tu entri in questo processo si infilano anche gli ego e quindi quelli che sono i bisogni o i talenti animici incominciano a diventare bisogni egoici desideri egoici e magari talenti egoici che vanno quindi verso direzioni un po' più distruttive un po' meno equilibranti quindi è anche un manuale pratico per seguire questo processo di autoosservazione interiore per tirar fuori poi queste risorse e talenti per evitare anche di incorrere in del perché dobbiamo essere certi che il messaggio debba provenire da anima ed è facile poi comprendere quando lo è io vediamo se si vede no sì sì no la copertina del libro ok prima hai parlato hai detto una parola magica credo che sia proprio magica hai parlato di gratitudine sì e credo che sia la cosa più bella che forse tutti quanti noi forse avevamo dimenticato in questo periodo invece credo che c'è tanto bisogno di rimetterla in moto questa gratitudine e sentirsi grati veramente anche per le piccolissime cose intanto grati di essere vivi di esserci di respirare e già siamo grati proprio alla vita e poi a tutto quello che ci circonda le persone agli animali alla terra e vorrei visto che il tempo insomma siamo già quasi a passati tre quarti d'ora vorrei concludere se tu pensi che sia giusto nell'ultimo capitolo il capitolo dieci parli proprio di questo rapporto con madre terra con Gaia con pace a mano come insomma i nomi sono tanti e quindi anche questo senso di gratitudine rivolto proprio a questa terra a questo pianeta che si sostiene ma che purtroppo però forse speriamo di fare in tempo magari abbiamo parecchio depredato no? e quindi non lo so vorrei che mi dicessi qualcosa su questo perché siamo siamo così cattivi nel distruggere questo pianeta che invece ci sostiene sempre e comunque certamente una mancanza di gratitudine sia una gratitudine di ottava bassa che una gratitudine di ottava alta nel senso che l'essere umano in questo momento sta dimostrando che collettivamente come coscienza non è stata in grado di afferrare il fatto abbastanza banale perché poi lo si legge pure nei libri di scuola lo fanno imparare i bambini alle elementari di quanto la nostra vita dipenda dal pianeta e dalla natura evidentemente non lo voleva capire non l'ha capito bene ripeto e quindi ha prodotto una ferita molto forte dovuta alla mancanza di comprensione purtroppo questo non riguarda solo i poli del grande potere che hanno distrutto e distruggono con una velocità enorme grandissima porzione del terreno ma io parlo di coscienza e quindi è causa nostra la causa siamo noi come individui come somma di individui che non ha compreso davvero queste cose o l'ha comprese troppo in ritardo quindi c'è una ferita in questo momento che slega noi da Pachamama noi come esseri umani non tutti molti di noi riescono ad avere un rapporto di gratitudine di scambio di equilibrio di rispetto e uno scambio economico con Pachamama con grandi difficoltà però la maggior parte di noi è all'interno di un sistema che schiaccia Pachamama per concludere visto che ho usato questa parola chiave gratitudine che è tra le emozioni anzi è la mia emozione superiore preferita e quando dico mia perché mia nel senso che ognuno di noi dovrebbe sentire la propria sua che cosa vuol dire che essendo un'emozione superiore è un pezzo di me cioè non è qualcosa che accade adesso perché è successo qualcosa dura un certo tempo io sento gratitudine poi giustamente sfuma perché la vita va avanti no quella è la gratitudine condizionata di una frequenza più bassa quella del campo umano della realtà visibile dove tu sei grato perché uno ti offre qualcosa mantieni questa gratitudine e poi magari la mantieni pure negli anni cosa che quella anche quella sfugge ormai no no io parlo di una gratitudine che prescinde dalla condizione da un fatto perché perché un pezzo di frequenza della nostra anima cioè la nostra anima ha delle emozioni superiori amore incondizionato beatitudine gioia letizia gratitudine ricchezza la ricchezza interiore è un'emozione superiore qual è la caratteristica di queste emozioni che oltre a essere di provenienza animica quindi queste sono le emozioni del cuore quando si dice segui il cuore sono queste sono superiori non sono mai positive perché le positive hanno anche quelle negative queste sono superiori sono incondizionate e prescindono dagli eventi sono solo superiori e sono componenti prismi diciamo del diamante della nostra anima cioè sono sono parti di noi quindi affiorano non è che accadono perché affiorano se noi riusciamo ad entrare in uno stato tale da lasciarle affiorare perché è la nostra natura quindi la gratitudine è un'esperienza incondizionata che tu dici è anche solo il respirare sì là c'è già una condizione che però è iniziale è buonissimo perché nel nel fiato nel respiro c'è l'alito animico quindi e là c'è una connessione coscienziale quindi va bene però se ci pensi ancora una condizione cioè il fatto che vivo mi rende felice e sono grato no? che è l'ultimo livello ma è il primo diciamo in termini materialità ma ce ne stanno altri ancora più sottili cioè non c'è un motivo tu puoi scoprire che la tua natura è la gratitudine che la tua natura è la ricchezza che la tua natura è amare e questa è di una potenza questi sono questa energia questi sono i capitali in economia alchemica dice con qualche cosa si investe per iniziare un progetto bene in economia alchemica si inizia con questi capitali energetici ecco perché la ricchezza interiore conosciuta tenuta bello in una bella economia interiore poi per forza produce fuori ma è impossibile che non sia così sì ha introdotto un altro tema grandissimo che è quello dell'amore amare ma credo che la cosa più difficile per tutti noi sia proprio quello di amare prima di tutto se stessi e poi amare anche gli altri no? proprio quel fare pace con se stessi quel l'accettare quell'apprezzare il proprio corpo in tutte le sue forme in tutte le sue maniere quindi il discorso dell'apertura del cuore io dico sempre sembra semplice però è tutto lì è tutto lì possiamo lasciarci rendendo semplice questa cosa perché come no magari è difficile amare allora è difficilissimo amare non è difficile è difficilissimo amare se per amare crediamo voglia essere il saper relazionarsi con amore nella realtà visibile quindi con le altre persone con i partner con gli amici con i parenti con le persone con gli animali con la natura no? ecco lì è difficilissimo è una scuola terrificante soprattutto in confrequenze così basse in un mondo sempre in guerra in conflittualità è difficilissimo e quindi noi pensiamo che dobbiamo essere capaci di farlo lì e questa è l'altra inversione l'altra trappola amare è facilissimo per te per me e per chiunque altro in maniera incondizionata cioè senza motivo perché paradossalmente ma è tutta la verità è tutto un paradosso tu sei molto più bravo e capace di amare una persona senza motivo che amare una persona per un motivo lo devi solo scoprire di fronte a una persona che odi prova a iniziare ad aprire il cuore e a decidere lo devi decidere perché è un'emozione volontaria l'amore incondizionato devi decidere di lasciare affiorare da te quella parte di te anche minuscola perché è schiacciata dall'odio dalla rabbia ma la parte minuscola c'è una luce che è disposta a vedere il tuo nemico tra virgolette il tuo stacolatore quello che è per cui provi rabbia per vederlo invece animicamente come te come una fiammella fragile in questo mondo così difficile in questo labirinto è sufficiente questo per far esplodere aprire il cuore e lasciarti attraversare informazioni alte che sono superiori questa cosa Roberta è facilissima lo può fare chiunque e ci fanno credere che è difficile amare il prossimo o l'altro basta fare così il difficile è sapere amare quando le relazioni sono avviate o quando noi pensiamo di dover relazionarsi con una persona perché entrano le paure della personalità che poi con questa capacità di sapere amare incondizionatamente possiamo riversare e quindi anche l'amore umano incomincia ad essere più fluente ma se noi impariamo che siamo amore e che quando abbiamo bisogno di amore in realtà abbiamo bisogno di amare perché uscendo il nostro capitale torna lo scopriamo lo vediamo e siamo ricchi il processo è inverso non è per essere ricchi non dobbiamo non deve entrare roba deve uscire roba è la stessa cosa se vogliamo sentirci amati dobbiamo amare è uno scambio ma quello che dicevo la difficoltà spesso sta nell'amare se stessi prima di amare gli altri era quello che diceva Gesù ama te stesso ama il prossimo tuo come te stesso ma è quel te stesso che magari è più difficile è più difficile allora noi infatti possiamo fare questo gioco dell'amore incondizionato possiamo imparare a farlo prima con una pietra perché è più semplice magari per un altro per poterla amarla deve essere pure bella e quindi vedi poi impariamo a farlo con una pianta poi impariamo a farlo con un animale è più facile amare un animale che amare una persona poi impariamo ad amare una persona se noi riusciamo ad amare una persona incondizionatamente come ti ho detto io con quell'amore incondizionato possiamo usare quella luce quello sguardo per iniziare a guardarci dentro e quindi incominciare ad amare che vuol dire conoscere le nostre parti interiori con quella stessa luce di amore incondizionato che fuori abbiamo sperimentato funzionare dentro di noi è più difficile è vero quindi è meglio sperimentarlo prima sulle pietre sulle piante sugli animali poi avendo a che fare diciamo con tante donne insomma il salone spesso io mi accorgo proprio di quanta mancanza di amore c'è per se stessi anche nell'utilizzo quando vengono fatti insomma belle le persone è sempre un proiettarsi cioè ci si dimentica di sé ci si dimentica della propria esistenza e c'è sempre questa proiezione questo servizio tra virgolette perché poi io dico la parola servizio è una parola molto più più ampia no e quindi mi rendo conto insomma di questa mancanza di amore per se stessi e niente era questo insomma che volevo sperimentare e poi chiudiamo se vuoi possiamo anche avviarci appunto alla conclusione parlando di donne tu pensi e dici che forse il futuro sarà diciamo risanato se vogliamo oppure valorizzato dal femminile non nel senso come donna no ma proprio dall'energia femminile mi pare che c'è insomma in questo tuo libro anche tanto sul discorso maschile e femminile sì questo aspetto delle due energie polari maschile e femminile ricorre tutte le mie ricerche perché sono i due canali energetici i due poli attraverso i quali poi il gioco della realtà si va a snodare sia quella dell'interiorità che è fatta di equilibri o squilibri tra queste due forze il nostro principio maschile e femminile che abitano in noi che non ha a che fare solo con la sessualità fisica ma anche con la struttura del pensiero delle emotività delle espressioni corporee dei talenti quindi sono due energie che fondamentali in qualsiasi campo di ricerca energetica esoterica spirituale io abbia fatto no e ovviamente applicate nell'economia già da anni di comunicare il Mediterraneo l'ultimo capitolo ma tutto il libro era dedicato alla donna l'ultimo capitolo come in questo qui anche era dedicato al principio femminile nell'economia e nel primo libro erano altri tempi tra virgolette c'era il bisogno di far comprendere l'importanza di un bagno nel femminile perché stavamo entrando nell'era finalmente dell'acquario anzi eravamo già entrati e l'importanza quindi di capire di comprendere quanto il femminile sia la casa della creazione abbia dentro di sé tutto il potenziale creativo e senza il femminile non le donne ripeto ma il femminile che è in noi non c'è nessun maschile che può creare una strada una direzione un atto di volontà che sia veramente centrato secondo il proprio i propri potenziali la propria ecologia interiore che è femminile l'economia è più maschile cioè la direzione che viene data in funzione delle risorse quindi il bagno nel femminile per conoscersi conoscersi amare scambiarsi gli sguardi femminili stare in ascolto sostanzialmente piuttosto che parlare che voler comunicare come trasmissione comunicare come ascolto ecco questo vuol dire il femminile da un approccio del genere nasce una forma di intelligenza nuova un principio maschile più attendibile che cresce non più inferiore ma un maschile superiore capace di dare di fare il suo compito che è quello di mettere un seme alla creazione di un qualcosa di specifico però che sta in maniera funzionale e diventa funzionale al principio femminile il principio femminile noi l'abbiamo sempre schiacciato pace a mamma che lo esprime se noi avessimo ascoltato il principio femminile sarebbe florida saremmo floridi noi invece siamo tutti malati e la terra è malata perché? perché siamo usciti fuori dal femminile anzi abbiamo sfruttato il femminile consumando delle risorse visibili e invisibili emozionali e non e l'abbiamo depredato ma non definitivamente quindi adesso siamo in un passaggio ancora più importante in cui il principio femminile è chiaro che riguarda l'esperienza individua di ciascuno di noi però per quanto mi riguarda palesemente ormai già presente in maniera diffusa e dobbiamo imparare a comprendere che adesso lo scatto è il maschile superiore cioè il mentale superiore cioè incominciare a prenderci quella responsabilità di fare una sintesi di quello che c'è nel calderone moho e iniziare a decretare una propria volontà animica questo è il momento quindi il femminile come base sempre ma adesso direi che è il punto della tua volontà è il momento quindi di esprimere un principio maschile superiore basta col principio maschile inferiore che è dominio prevaricazione menzogna forza e tutto il resto ci hanno detto che quello è il maschile no c'è un maschile superiore che è determinante che è quello che stiamo aspettando adesso grazie penso che possiamo proprio concludere queste tue ultime parole è difficile concludere perché ogni ogni parola ogni insomma situazione ci porta ad altri riferimenti e mi portava a quello che dici che anima è femminile e che spirito è maschile come energia quindi anche queste due descrizioni che tu fai nel libro a seconda delle dimensioni poi che attraversano scambiano di ruolo come polo energetico ah ecco una cosa molto interessante ci dai non ho sentito non si è sentito ci dai questa sono cose tecniche se vuoi te la do mi senti? ogni tanto va via si blocca quindi ok vuol dire che dobbiamo concludere quindi se vuoi concludere con questa con questa risposta non lo so è una curiosità un po' tecnica che io ti dico ti rispondo volentieri proprio nel momento dell'incarnazione soprattutto dell'incarnazione cosciente quindi quando anima deve cominciare a costruire un'anima razionale deve sapersi interfacciare con la personalità la macchina biologica in maniera cosciente ecco in quel momento deve incarnare il principio maschile e il principio maschile deve saper osservare mettere fuoco proprio e osservare il principio femminile per fecondarlo perché questo è quello che noi quando cominciamo a vedere il nostro corpo quando vediamo allo specchio che non ci piace non lo stiamo fecondando lo stiamo insultando e uccidendo se invece noi ci amiamo così come siamo corpo mente emozioni iniziamo ad avere una relazione più armonica e a quel punto il principio d'innesco della relazione come anima principio maschile sfuma e lì inizia una danza perché poi c'è una danza in cui i due principi si scambiano di ruolo spirito sta prima però voglio dire sta prima e poi durante non manca in questi avvicendamenti sta di mezzo un filo conduttore un po' di questa danza però sono cose un po' più fortine ecco starei starei un'altra ora sicuramente a parlare con te ma magari poi forse chi ci sta ascoltando magari può anche dire no no fermatevi perché entriamo in altri discorsi che comunque poi sempre è bello conoscere ecco la mia anima vuole sicuramente conoscere sempre di più Stefano che dire grazie di questa bellissima chiacchierata grazie di questo lavoro insomma che tu hai hai fatto e ci stai continuamente non lo so veramente non trovo le parole per dire questa per raccontare questa bellezza grazie a chi ci ha ascoltato vedo un po' di domande che che hanno fatto un po' di persone che sono state con noi per quest'ora adesso leggo leggo Maria Cristina scrive io dico andate avanti bella questa ci chiedono di andare avanti grazie a tutti allora a presto speriamo di rivederci presto di poter incontrare personalmente tutti quanti e di abbracciarci a presto buona vita grazie dovrei capire come si chiude ciao arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti